Le brume del quasi inverno che sarà tra poche ore sul cielo e nell'aria d'Alto Pascio, ma il comunale fa caldo perché arriva la capolista pianese e il Tao ha voglia di stupire ancora. Venturi fa un saggio turnover, visto che ne cambia quattro rispetto agli eroi di San Donato. Dentro Alessio, Malva, Lombardo e Biagioni. I bianconeri di Prosperi hanno lo spessore della capolista e vogliono difendere il primato. Tao in completo bianco, pianese in giallo, prima fase di studio con la pianese minacciosa al ventitresimo, tiro di Simeoni respinto da Di Biagio e rompe Mignani che tutto solo spreca malamente. La squadra di Venturi pare contratta. Al ventiseesimo dobbiamo purtroppo registrare il brutto infortunio occorso all'attaccante del Tao Tommaso Andolfi, costretto a lasciare il campo in barella. Quasi allo scadere del primo tempo, erroraccio di Di Biagio che consegna il pallone a Mignani che ancora una volta però asciupa tutto. Si va a riposo sullo 0-0 e con il padrone di casa costretti finora a fare gara di contenimento. Nella ripresa però la musica cambia. Finalmente gli amaranto si rendono minacciosi. Angolo velenoso di Capparella sul quale si accende una mischia furibonda, col pallone che danza sulla linea di porta di De Fazio che riesce a salvare anche sul tentativo di Bernardini. Ora il Tao ci crede, va di nuovo vicinissimo al vantaggio alla mezz'ora. Ancora sugli sviluppi di un corne, sbucano Ccioli che di testa colpisce il palo. Poi Odianose ci prova inutilmente per due volte. Trema la capolista all'incedere del novantesimo altra colossale occasione per la squadra di Venturi. Manetti va via sulla destra e crossa dal fondo. Odianose stacca di testa tutto solo ma mette fuori tra lo sgomento della tifoseria locale. Non succede altro, finisce 0-0, risultato che alla fine ci può stare ma che casomai sta stretto ad un Tao confermatosi all'altezza delle migliori. La pianese ha rischiato in un poco ma alla fine si laura campione d'inverno e per oggi può andar bene così. Grazie.